Passiamo all'intervento dell'ingegner Giorgio Pineschi del Ministero dell'Ambiente e della Segreteria Tecnica del Ministro. È membro italiano e co-leader con la Francia del Working Group Water Scarcity and Drug nell'ambito della Common Implementation Strategy della Commissione Europea per l'implementazione della legge 2060 della comunità. Le cedo la parola e le ringrazio. Le ringrazio. È sempre difficilissimo prendere la parola dopo Catello, perché è ovviamente troppo bravo e riesce veramente a appassionare tutti noi. Però, nonostante ci sono alcuni aspetti che lui ha trattato rapidamente, perché il tempo era quello, e che io conto di approfondire. E tra l'altro aspetti che sono stati anche oggetto di domande, quindi spero di essere in questo sintonico. Prima di iniziare, però, mi premeva esprimere la motivazione forte per cui ho aderito subito a questa iniziativa, appena sarà proposta. Io, come diceva il professore, lavoro in amministratore dell'ambiente ormai da 12 anni. E per certi versi, sono uno studente in ingegneria, ero uno studente in ingegneria, ho fatto la laurea, il dottorato sull'acqua, tutta la mia carriera sull'acqua, e poi appunto prestato all'amministrazione pubblica, però ho la sensazione di avere un po' fallito, nel senso dei miei ideali e delle mie convinzioni, che erano quelle anche dell'epoca di studenti, infatti ho molte domande di studenti, sono molto simili le domande che mi facevo io, e la motivazione da cui ho deciso, da professionista, poi di dedicarmi all'amministrazione pubblica. È fallito perché tutte quelle cose, strategie, azioni, che sembrano quasi automatiche, specialmente vedendo la presentazione di Catello poco fa, che sembrano, facciamole, muoiono la gente, l'acqua è così preziosa, non si riesce a farle. Perché? Oggi la politica è vituperata, tutti c'erano quei politici, e questo hanno la loro responsabilità. Però vi sono fatto convinto che è una questione culturale. Ecco, dove io ho fallito, voi professori di liceo, voi studenti di liceo, potete forse avere più successo, ovvero è da lì che bisogna invertire la mentalità, è lì che bisogna arrivare alle posizioni di comando, di dirigenza, è con già quel bagaglio di consapevolezza. Per questo che la mia presentazione, che oggi farò rapidamente, spero almeno, riguarda la connessione tra due aspetti, che vengono sempre visti serenamente. Come viene visto tutto il resto in maniera separata, invece l'acqua è una, è una ed è visibile. Partirei da quello che ci ha riguardato tutti recentemente. L'acqua appunto diventa qualcosa di importante soltanto quando c'è un evento catastrofico, come questi di questo autunno, o quando non c'è, perché c'è la siccità, eccetera. Però è successo appunto nel giugno scorso, che tutti siamo stati chiamati a esprimerci su delle questioni dell'acqua, e c'è stata una partecipazione pazzesca, unica nella storia del referendum, con un pronunciamento altrettanto plebiscitario. Cioè non c'è stata una partecipazione massiccia e un messaggio forte, al di là di quello che uno può pensarlo. Io sono andato a votare, non vi dico come ho votato, perché sarebbe un punto un po' guidare un po' la vostra convinzione, però sono andato a votare. E al di là di quelle che sono le convinzioni, dei due quesiti, che sono due quesiti importanti, io volevo porre l'attenzione su una questione che è trasversale di quei siti, è quella economica, ovvero come sarà questo modello di gestione pubblica? Ancora appunto tutto da fare, non è che i referendum sono stati applicati. E come ratterrà poi in concreto la contribuzione dei servizi sitici? Sarà ancora una tariffa o è piuttosto una tassa, come ci viene proposta adesso con questo nuovo assetto? Ma più che altro, è questo una cosa che mi ha un po' scandalizzato da persone che conosce un po' la materia. Ma ci siamo posti la vera domanda, ma quali sono i servizi sitici? Perché la gente come me, come voi, andate a votare, aveva esclusivamente in testa il rubinetto. La sua acqua, l'acqua è pubblica, è mia, ma è l'acqua del mio rubinetto. Ecco, non è proprio così. Quell'acqua ha una storia. Quell'acqua viene da lontano e andrà da qualche altra parte. Quindi i servizi idrici sono qualcosa di più complesso. Alcuni dei stati membri sono in procedura di infrazione comunitaria per aver malinterpretato il concetto di servizio idrico. Ecco che il servizio idrico, appunto, abbiamo visto gli acquedotti, l'appunto apprendimento idrico, ma la pognatura, e questo pure è un servizio idrico, la depurazione, che è uno dei temi che vorrei trattare più nel dettaglio, se ce la faccio col tempo, ma anche l'acqua di agricoltura è un servizio idrico. È un servizio specializzato per un settore, ma è un servizio che ha sopra il 50% dei consumi delle acque. Ma se allarghiamo lo scenario, anche la pulizia fluviale, il mantenimento della qualità di un fiume è un servizio idrico. Perché no? È così. È proprio così. La navigazione, ho messo un'immagine un po' speciale, però la balneazione è un servizio idrico. E anche il mantenimento del deflusso urbano delle acque è un servizio idrico. Guardate che nella tariffa non c'è l'acqua bianca, l'acqua meteorica. Questo è un problema importante di carattere amministrativo che diventa drammatico con morti e con danni ingentissimi. Quello è un servizio idrico che nessuno paga nel senso più proprio della parola, perché la tariffa, come da definizione, è il corrispettivo di un servizio, ovvero chi usa paga, chi inquina paga. L'acqua piove perché la manda a Dio, nessuno direttamente la sporca, si sporca indirettamente, nessuno paga una tariffa per quel servizio. E quindi nessuno va a pulire i tombini quando piove, nessuno va a fare un'utenzione alla fognatura bianca, che ormai è tutta mantemiste, e quindi succedono dei disastri. Io ho impostato la mia presentazione proprio con quantità e qualità, in maniera separata, ma per vedere che sono in realtà connessi continuamente, e tra la quantità inizio dalla troppa acqua. Perché è il momento, tutti ci stiamo, come diceva giustamente Masullo, è il disastro ambientale, non prevedibile, prevedibile, colpa qui, colpa lì, la troppa acqua, quindi diciamo le alluvioni. Innanzitutto dobbiamo chiarire un concetto, che forse qualcuno, non so se il professor Calenda ieri vi ha già introdotto, comunque il concetto di rischio. Il concetto di rischio è connesso appunto con il disteso idrogeologico, ed è un prodotto tra la pericolosità, che è appunto la probabilità che occorra un evento meteorico di data di intensità, quindi di intensità di elevata, quindi uno scroscio, un temporale appunto particolarmente potente, per il valore dei beni esposti, e per la vulnerabilità di questi beni esposti, cioè quanto sono vulnerabili all'acqua, appunto, di evento meteorico. E quindi il rischio alluvionale è il prodotto di questi fattori. Va da sé, come si diceva prima, che se non ci sono beni esposti, anche in presenza di una pericolosità elevatissima, cioè che lì proprio succede un disastro, il rischio è zero. Di contro, se anche ci sta una pericolosità bassissima, ma lì c'è la gioconda, lì vicino c'è la gioconda, la volta che si allaga la gioconda ce la siamo fregata, e quindi il rischio è elevatissimo. Quindi diciamo che è un valore relativo, non assoluto. Ecco perché quando si dice bisogna fare gli interventi, gli interventi, gli interventi, no, gli interventi vanno commisurati con questa formula, cioè si deve andare a evitare di impegnare territori pericolosi. La Liguria, con formazione fisica, il territorio è stretto tra il mare e le montagne, è tutto pericoloso. Quindi se uno va a costruire il rischio schizza. Ecco che piani case che diminuiscono la distanza dai fiumi, che prevedono tombamenti ritorrenti, sono follia. Ecco e quindi è importantissimo riuscire a mappare questo rischio sul territorio in maniera univoca, nel senso che lo fanno organismi che sono sopra ogni parte, che mappano il rischio e mettono dei vincoli. Essendo questo prodotto elevato, lì non si costruisce. Punto. E vanno fatte rispettare. Quindi fondamentalmente è un problema di porre dei vincoli razionali e cogitati, quindi qualcuno che ci ha ragionato, e di farli rispettare. E torniamo al vecchio, purtroppo annoso problema, nel nostro paese, in cui le regole spesso sono stupide, come i 30 all'ora con la macchina su strade provinciali che è impossibile da mantenere, e quindi a volte ci sono dei vincoli non ben cogitati e l'impossibilità totale di farli rispettare. Questo è il problema del rischio meteorologico in Italia, non altri. Se non il fatto, e queste sono immagini miste tra Liguria e Toscana, ma insomma vediamo che i fiumi sono delle strade, sono di toboga, queste sono strade dove appunto il fiume è stato costretto ad andare da altre parti, mentre invece era il suo letto. E quando appunto era l'alluvione si riprende lo spazio che gli era stato tolto, né più né meno. Occase appunto proprio sul filo dell'argine. Dicevo, se non il fatto che effettivamente il nostro paese presenta una pericolosità, quindi naturale, intrinseca, molto elevata, perché è un paese collinare e montuso. E quindi questa eventualità di questa conformazione morfologica lo rende particolarmente critico. Un po' come in Giappone ci sono i terremoti, un po' come in California ci sta la faglia di Sant'Andrea. Noi siamo un paese appunto che deve fare i conti con questa configurazione, quindi bisogna convivere con un grado di rischio, non il più elevato, bisogna tentare di abbassare il rischio al minimo, appunto quindi andando a lavorare su quel prodotto, e convivere con questo rischio. Che significa fare appunto i vincoli, è la prima cosa, ma poi piani di contingenza, piani di protezione civile, piani di allerta, ovvero avere un sistema di strumenti, efficaci, ben collaudati, in grado di far scattare la macchina appunto della protezione civile, che comunque è ottima nel nostro paese, e comunque anche tutto quello che serve nei momenti di criticità. Quindi quando comincia il sottunno, ci si guarda un attimo intorno, si olia la macchina dell'allerta, perché sai che più o meno si vedono, si fanno appunto le previsioni del meteo, si fa tutto quello che si deve fare, per cominciare a contrastare appunto questi fenomeni. Fenomeni che rispetto al resto d'Europa sono caratterizzati, non soltanto, cioè in Europa ci sono i grandi fiumi, quindi l'alluvione è intesa come l'esondazione del grande fiume. Da noi questo esiste chiaramente, ma esiste molto di più un misto tra appunto quello che sono i fiumi che sondano e la movimentazione di materiale, la frana, cioè l'acqua che piove, innesca movimenti appunto gravitativi di terreno, che insieme all'acqua formano appunto questi fenomeni appunto molto molto pericolosi. Quindi sono rischi appunto alluvionali in senso stretto, quindi sondazioni, frane e anche valanghe, questo non ce lo dimentichiamo, è un altro fenomeno a cui siamo soggetti. E un altro che qui non è segnato, ma che sta cominciando ad avere un preponderante peso, è quello dell'elezione costiera, cioè il rischio di venire dal mare. Perché anche lì appunto, perché il rischio quindi prodotto della presidità per vulnerare i beni esposti si costruisce sulla riva e quindi appunto le mareggiate possono essere pericolose perché vanno a distruggere del costruito, cioè ci si mette troppo vicino a quello che appunto è una situazione di pericolosità. Accanto al discorso appunto di pericolosità naturale, quindi appunto di sesso idrogeologico, di frane, di valanghe, c'è un altro fenomeno a cui assistiamo sempre più spesso, sempre più frequentemente, è quello appunto dell'acqua, della troppa acqua, stiamo parlando sempre, in ambiente urbanizzato. A destra della figura trovate appunto un ambiente rurale, con i fiumi, la foresta, i prati, eccetera, e a sinistra un ambiente urbanizzato. Quando piove e in un ambiente appunto non urbanizzato ci sono alcuni fenomeni, tra cui l'infiltrazione, la capacità della vegetazione di comunque di trattenere le acque, eccetera, in ambiente urbanizzato invece tutto diverso ed è molto connesso al fatto che questo suolo è impermeabilizzato. Faccio vedere meglio, appunto, con soltanto il 28%, il 20% di urbanizzazione, lo scorrimento superficiale sale al 20% e l'infiltrazione passa dal 25% al 21%, tra quella superficiale e il 21% quella lì in falda. Ma con un 75-100% di urbanizzazione, lo scorrimento passa al 55%, quindi diciamo che man mano che il grado di urbanizzazione aumenta, aumenta l'acqua che scorre in superficie e quest'acqua va gestita e come noi ingegneri sappiamo, va raccolta e allontanata nel più breve tempo possibile. E qui scatto il ragionamento che ho già fatto prima, quantità, qualità, quantità, qualità. Allora, intanto quest'acqua, appunto, quella prima pioggia, è che ente sporca, va a lavare le superfici impremiabilizzate dove c'è il traffico urbano, eccetera, ma la seconda pioggia, c'è l'acqua che potrebbe essere immagazzinata e quindi questo discorso di drenarla e buttarla può essere migliorato come approccio. E quindi questo è un primo ragionamento. Ma poi l'altro ragionamento è quello che abbiamo visto tutti quanti, le nostre città sono diventate pericolose per questi motivi. La non gestione dell'acqua meteorica, anche per i motivi amministrativi che prima dicevo, cioè non c'è un pensiero tariffario rispetto a quell'acqua. È un problema che le regioni stanno affrontando, perché c'è un buco, un buco normativo. Fa sì che la gestione dell'acqua meteorica in ambiente urbano è diventato un problema. Roma, nell'ultimo evento meteorico di ottobre, con una bellissima nutria in primo piano che si fa fotografare, Messina, in basso a sinistra, drammaticamente colpita periodicamente, perché Messina è quella città che ogni autunno è sicuro che sta lì. Appunto Messina, immagino, Sicilia siccitosa, poi adesso vediamo che significa anche siccità, eccetera. Ecco, questo è Messina. E poi il punto, credo che quella sia Genova con una barchetta che si va in barca dove ci va il tram, generalmente. Ecco, quindi le città nostre sono diventate pericolose. Non stiamo parlando del discesso di geologica, stiamo parlando di una mala gestione dei servizi idrici. Questo è servizio idrico. Quindi, quando c'è un referendum che dice che l'acqua è pubblica, pure questa è acqua pubblica. Perché non è pubblica questa? È in ambiente urbano. E chi paga questo? Nessuno. Non c'è nessun meccanismo di recupero dei costi connessi alla gestione di queste acque. Ancora quantità. Poca acqua. Io do soltanto le flash. Ciascuno di questi argomenti meriterebbe un approfondimento di ore, di lezioni. Quindi, insomma, perdonate se vado così in maniera superficiale. Poca acqua. Innanzitutto, l'acqua è disponibile, sarà vista tantissime volte, secondo un ciclo idrico. Però mi preme fare la precisazione che spesso, anche a livelli di persone dotte di questa materia, c'è l'errore di confondere il ciclo del bilancio idrologico con il bilancio idrico. Il bilancio idrologico sono gli afflussi e deflussi naturali, quello che piove rispetto a quello che poi si evapora o si immagazzina nei fiumi, nei laghi e nell'acqua sotterranea. Il bilancio idrico è questo più l'intervento dell'uomo, cioè gli usi che si innessano sul bilancio idrico. E quindi le acque che vengono appunto anche utilizzate, e come diceva appunto prima lo studente, anche sporcate. E questo appunto, ancora una volta, quantità e qualità. Cioè quell'acqua che viene sporcata non è più disponibile per gli usi, viene astratta, viene tolta. E quindi in un bilancio idrologico, quando c'è il bilancio idrico, c'è anche l'uomo, quelle quantità non sono più nette ma devono essere decurtate dell'acqua che viene appunto utilizzata e sporcata. Anche qui una piccola presentazione che spesso mi trovo, anche io faccio un po' di attività didattica, spesso quando si parla di acque sotterranee, ci si immagina la Batcaverna col fiume sotterraneo, il carcismo, quello certo sono acque sotterranee, sono assolutamente acque sotterranee, ma specialmente nel nostro paese, l'acqua sotterranee sono appunto un'importantissima struttura geologica appunto che fa capo a rocce permeabili o fortemente permeabili in grado di immagasinare l'acqua, ovvero piove, l'acqua percola nel terreno, poi raggiunge uno strato impermeabile e lì comincia a immagasinarsi in un sistema trifase, appunto suolo, acqua e gas, che sono le falde acquifere. Quando una falda acquifera appunto è in contatto con la stratigrafia superficiale, quindi diciamo l'acqua percola direttamente dal suolo fino alla falda, quella è una falda superficiale, quando invece la falda è protetta da degli strati impermeabili, se è appunto una falda appunto artesiana, che permette di avere acqua di altissima qualità. Il nostro paese, l'Italia, è particolarmente fortunata perché è caratterizzata da suoli generalmente permeabili, quindi molti suoli calcarei, quindi tutto l'appennino appunto fatto di calcare, o vulcanici, rocce vulcaniche, che anche queste presentano una certa permeabilità di diverso tipo, ma anche queste appunto permeabili. E qui diciamo che il nostro suolo è ricco di falde acquifere. E queste acque appunto sotterranee sono la vera nostra riserva di acqua. Cioè noi, se non in rari casi, in alcuni casi, come ad esempio Firenze, che potabilizza l'acqua dell'Arno, noi beviamo acqua di falda. Acqua di falda appunto profonda, quindi di falda confinata, non superficiale. Quindi acque spesso anche molto antiche, che sono in contatto con le rocce che le ospitano e con quale scambiano sali, sostanze appunto minerali, tanto appunto che sono acque minerali. Cioè noi, come diceva prima anche Catello Mosullo, la nostra acqua di rubinetto è acqua minerale, ma nel senso proprio più stretto della parola, sono acque sotterranee, spesso anche molto antiche e molto pregiate. E le stesse acque minerali spesso vengono utilizzate per irrigare i campi o per altri usi meno pregiati. Ecco che appunto la tutela della falda acquifera è per noi una priorità assoluta. Il bilancio idrico. Il bilancio idrico appunto è, da un punto di vista proprio diciamo banale, il conteggio, la disponibilità di queste appunto acque che piovono, vengono immagazinate nei vari corpi idrici e sui figli atterrani e dei diversi usi a cui queste risorse devono essere appunto asservite. Tra cui anche un concetto che dobbiamo vedere da poco di deflusso minimo vitale, che è uno dei legami appunto tra quantità e qualità che è uno del tema portante di questa presentazione. Intanto mi preme su questo dare delle definizioni che sono state già toccate, ovvero la distinzione tra, nel discorso di poca acqua, tra quello che sono appunto la aridità, che è un fenomeno diciamo intrinseco e permanente, che dipende dal clima di un paese, di un territorio, legato alla bassa o bassissima piovosità. Quindi un clima arido, una situazione di aridità, i deserti per esempio, dove non piove, punto. Poi abbiamo la siccità. La siccità invece è un fenomeno temporaneo di derivazione climatica, pure questa, dovuto appunto a un ridotto apporto piovoso sempre, ma in un periodo di tempo limitato e in aree geografiche limitate, quindi aree siccitose perché c'è stato un ridotto apporto meteorico rispetto alla media usuale. Quindi non è nel deserto, deserto è per definizione, desertico è arido. E questi sono due fenomeni naturali, siccità, aridità, siamo nel campo di fenomeni naturali. Poi abbiamo la cosiddetta water scarcity oppure mancanza d'acqua, che invece è un sbilancio, quindi il sbilancio idrico, tra la disponibilità esistente e gli usi, quando si usa di più di quello che si ha, e si ha appunto la mancanza d'acqua, e questo invece è di carattere artificiale, perché è l'uomo che sta utilizzando di più di quello che ha. E infine appunto un termine che è stato già utilizzato, la desertificazione che ha a che fare con l'acqua, ma l'acqua intesa come rapporto acqua-suolo, e quando appunto il suolo per il suo utilizzo sconsiderato eccessivo nei confronti appunto dell'acqua viene reso artificialmente deserto, arido. Quindi viene depoperato di quelle caratteristiche in grado di sopportare un ciclo vitale. E questo è antropico. Questo è giusto perché voi siete gli insegnanti e quindi è bene che specialmente non si confonda tra quella che la siccità e la water scarcity, la mancanza d'acqua, perché per esempio in Italia di siccità vere e proprie, sono veramente pochi casi. E mi preme ricordarne uno, l'ultimo che abbiamo avuto di evento siccitoso, nel 2003, in cui il fiume Po si attraversava a piedi. Ma guardate, se l'ho detto, ah al sud c'è meno acqua, quella siccità ha colpito il nord. E perché ha colpito il nord? Perché l'inverno non nevicò, fu una siccità invernale, principalmente. Poi fu una concomitanza di eventi. Però non nevicò, mancarono gli apporti nevosi e quindi l'accumulo invernale di acqua, ghiacciai e neve. E quando arrivato l'autunno non si è sciolto niente e quando era l'estate non c'era più quel deflusso. E quindi le nostre falde erano basse, i nostri laghi erano bassi e ci fu in estate, in concomitanza appunto dell'evaporazione, il minimo appunto di disponibilità idrica. E quella fu siccità, però un fenomeno nel tempo limitato, ma colpì principalmente il nord. Quindi cambiare anche le prospettive. Attenzione, non è che la Sicilia... è vero. Poi manco la Sicilia. La Sicilia è un posto che l'acqua ce ne sta abbastanza. È più la Puglia, se vogliamo, che è sfortunata come situazione. Però, ecco. Vi dicevo il deflusso militare. È il link tra la quantità e la qualità. perché in un discorso appunto diciamo di conteggiare quelle che sono le risorse superficiali e sotterranee, meno gli usi civili, agricoli, industriali, energetici, eccetera, più una quantità che può essere recuperata in utilizzo, più la quantità che viene restituita, ci sono degli usi che non sono dissipativi, l'acqua viene utilizzata e poi viene restituita, deve essere maggiore o uguale a zero. E questo numero, maggiore o uguale a zero, è il cosiddetto deflusso minimo vitale, che è definito come la quantità appunto d'acqua necessaria a supportare le biocenosi. Ecco il legame tra quantità e qualità. Non si può prescindere da questo concetto che l'acqua deve rimanere almeno per quello che serve a supportare la vita. Ecco, io mi permetto qui di fare una piccola, non polemica, ma precisazione sul discorso dei trasferimenti di acqua. L'articolo 17 della vecchia 36, i detti lavori se ricordano appunto in questa maniera qui. Ovvero il trasferimento dell'acqua va bene da chi ce ne ha di più a chi ce ne ha di meno, ma sempre mantenendo dei paletti fissi che sono quelli del rispetto delle esigenze naturali degli ecosistemi. E qui infatti veniamo alla qualità. È il concetto di estate ecologico. Dico qualcosa che sono delle normative. Io ho seguito tutte le normative comunitarie dal 99 a oggi e questi sono concetti che sono internalizzati in tutta l'normativa. L'ho presentato in questa forma e non come sterile presentazioni di norme per rendere più fruibili, ma sono concetti di norma. Ecco che, prendo il fiume che è più evidente come concetto, il fiume non è soltanto acqua, è un elemento vivente. Un elemento vivente che a seconda di, se è appunto un torrente montano, un affluente primario o secondario o un fiume di valle, ha caratteristiche ben diverse, con una vita differente nel fiume. Vita che è fatta sia appunto di invertebrati, pesci, uccelli, ma anche è appunto di vegetazione. Quindi tutta la zona di Pariale fa parte del fiume, non è un'altra cosa. Quello è il fiume, i sedimenti sono il fiume, quello che sono i sedimenti è il fiume. Quindi il fiume è un organismo, è un organismo, un organismo anche molto complesso che deve essere compreso e rispettato. Infatti le direttive comunitarie, comunque insomma il nostro approccio, la tutela, per i fiumi per esempio, individua due stati, lo stato ecologico e lo stato chimico. Un tempo si guardava soltanto la chimica, cioè si vedeva se la chimica era quella dell'acqua, sta bene. No, lo stato è anche uno stato ecologico che viene descritto attraverso elementi di qualità biologici, che vanno dal plecottero, che è un invertebrato che vive nei sedimenti, fino al pesce, passando per le microfite, le piante, passando per tutto quello che è la vita del corpo idrico. Poi gli elementi idromorfologici, cioè le sponde, la morfologia, la sinusità del fiume, ed elementi fisici e fisico-chimici caratteristici di quello stato. Quindi ecco che oggi, per vedere se un fiume sta bene praticamente, non si assaggia soltanto l'acqua, ma si vede nel suo complesso come organismo. E per sapere se sta bene, queste caratteristiche vengono confrontate con uno stato ipotetico di riferimento che è l'assenza di impatto umano. E oggi siamo, diciamo, dal punto di vista proprio strategico, costretti, dalle direttive comunitarie, a perseguire il buono stato, come di questi corpi idrici, fiumi, laghi, a quei costieri, a questo terraneo, che è un lieve di scostamento dallo stato elevato, che è proprio quello in cui c'è assenza di impatto umano. Quindi, a livello di normativa comunitaria, noi dobbiamo assicurare al nostro patrimonio idrico uno stato che sia poco differente dall'Eden, quando l'uomo non c'era o c'era, sporcava poco, solo le mele prendeva. Quindi, e come l'uomo interagisce con questa qualità? Ci sono parecchi fattori di pressione e impatti, fonti di inquinamento puntuali, dagli scarichi cosiddetti, appunto, gli scarichi sono proprio gli esorgenti di inquinamento puntuali, o i carichi diffusi, l'agricoltura, sia diffusi anche urbani, cioè quando piove, come ho detto prima, ci sono di lavamento, ci sono appunto impatti anche di carattere diffuso. Ecco, qui, per esempio, su questi concetti, tornando un attimo agli approcci di tutela, di relazione comunitaria, negli anni 90 ci fu la prima, diciamo, grossa rivoluzione in senso ambientale sulle acque. Fino a quel momento ci si occupava dell'acqua in funzione degli usi, quindi l'acqua per la balneazione, l'acqua per il consumo umano, l'acqua per l'ambuliscicoltura e la viscicoltura, l'acqua per... Invece, negli anni 90 si è cominciato a vedere dei fenomeni di inquinamento delle acque che non erano più sostenibili e fu messo sotto la lente di ingrandimento un fenomeno in particolare, l'etrofizzazione. L'etrofizzazione è il fenomeno per cui alcuni inquinanti e più, nello specifico, i nutrienti, ovvero azote e fosforo, erano in grado di accelerare una degenerazione della qualità dei corpi idrici dovuto al fatto che i nutrienti fanno crescere il pool di materia organica vegetale, alghe, piante, queste morendo fanno un grosso pool di sedimenti e quindi di sostanza carboniosa, questa sostanza carboniosa morta sui fondali di questi elementi, specialmente elementi idrici con poco ricambio come laghi o golfi, fanno sì che il mondo protista, ovvero i batteri, consumando questa sostanza organica consumano anche l'ossigeno, perché questi mangiando respirano e si riproducono. Fatto sta che in sintesi questo processo di accumulo di sostanza organica si risolveva in una diminuzione verticale dell'ossigeno, cioè l'ossigeno veniva a mancare in questi corpi idrici, questo è appunto il fenomeno dell'etrofizzazione. E quindi togliendo nutrienti, eliminando questo driver, questo input di materiale organica con nutrienti, si è riusciti appunto a invertire questo fenomeno dell'etrofizzazione. E tra questi appunto fenomeni, ecco qui, siamo un po' tardi ma giusto così, abbiamo la qualità dell'acqua che dipende da apporti di origine umana e da apporti di origine naturale. Dentro l'acqua ci sono una serie appunto di classi biologiche e collegate dal ciclo appunto del trofico, al ciclo del cibo, quindi appunto la luce come apportaturale fa crescere la vegetazione, la vegetazione appunto alimenta l'autoplanto, i pesci eccetera, quindi alla fine faccio un problema, mi fanno segno appunto di chiudere, comunque l'ossigeno fa parte di questo ciclo, questo ciclo è abbastanza complesso ma alla fine appunto si risolve in una diminuzione dell'ossigeno, questo appunto è l'effetto degenerativo dei corpi idrici. E una cosa importante appunto, adesso non c'è tempo, è la depurazione, cioè una risposta importante è poter appunto depurare le acque. Oggi rispetto a questo aspetto della depurazione siamo in forte ritardo, l'Italia è in procedura di infrazione per 3.000 diciamo comuni, si chiamano agglomerati, non conformi ai requisiti comunitari per la depurazione. Questa è una cosa pazzesca, altro che l'inizio di Campania, siamo molto oltre come problematica. E rispetto a questo, e ho concluso, per ricollegarci al discorso quantitativo, l'importante è poter depurare e riutilizzare le acque, le flue prodotte appunto dei repuratori, andandoci a ricollegare appunto la qualità alla quantità. E ho finito.